Ehi, trappola! L'ho preso, l'ho preso! La cena sarà pronta fra mezz'ora! Santo cielo, chi sarà mai? Salve, sono dei servizi sociali. Sono qui per Ernie. Ernie, questo simpatico signore si metterà seduto con te e tuo padre per fare una chiacchierata. Ok! Ma dovevamo giocare al disastro nella miniera spaziale! Io dovevo fare l'avido padrone della miniera che chiude un occhio sulle violazioni della sicurezza! A, potreste giocare anche dopo. E B, sai bene che non riesci ad entrare in una miniera. Non devo entrare là dentro, papà. Sono il padrone della miniera. Non devo fare il lavoro sporco. In più, ti ho già detto che sapevo che era pericoloso là dentro. Potete giocare dopo. Grazie Dio ci ha chiamato, signor Brown. Nessuno dovrebbe vivere in quelle condizioni. Hai chiamato tu l'assistente sociale. Come ti sei permesso? Come ti sei la vecchia? Sì, 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 sì.